Il messaggio di prevenzione e di sicurezza alla guida di un mezzo passa anche attraverso questo che leggiamo insieme. Non sfidare la sorte, assumere alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di incidente. La stazione ferroviaria di Alessandria è fra le 35 in tutta Italia che aderisce alla campagna Hashtag No Alcol alla Guida, promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con ACI. Noi abbiamo il direttore di ACI Alessandria, Umberto Rossi, che promuove ovviamente quest'importante campagna e va a sensibilizzare in realtà poi tutto l'anno il tema della sicurezza e della prevenzione. Assolutamente, questa campagna nasce da un accordo nazionale fra ACI e Ministero della Salute che ha l'obiettivo attraverso le grandi stazioni di raggiungere la maggior parte della popolazione possibile perché possa sensibilizzare anche non solo i guidatori in senso diretto ma anche tutti gli ambienti familiari, gli ambienti di amicizie che girano intorno all'utilizzo del veicolo. Quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare l'utilizzo corretto della vettura, quindi non bere assolutamente soprattutto per i giovani che come sapete non possono assolutamente assumere alcol per i primi tre anni dal rilascio della patente. Quindi hanno tasso alcolemico zero, mentre la toleranza arriva a 0,5 a partire dal quarto anno di rilascio della patente. Però attenzione perché basta pochi centilitri di alcol nel sangue oltre quello consentito per rischiare anche la perdita di punti della patente, per non parlare naturalmente delle conseguenze in termini di lucidità e di capacità di riflesso. Si prevede che questa campagna raggiungerà nel complesso giovani e meno giovani. In questa campagna estiva oltre 15 milioni di cittadini che arrivano in stazione, scendono, partono, guardano il messaggio. Ovviamente si va a sensibilizzare chi si mette alla guida di uno strumento che può diventare anche uno strumento di morte e la sensibilizzazione va fatta a partire dalle scuole. Assolutamente. Noi quest'anno, grazie anche all'impulso della Prefettura e alle collaborazioni della Polizia Stradale, dell'Associazione Vittime della Strada e dei nostri tecnici di A.C. abbiamo raggiunto parecchi ragazzi, quasi 800 ragazzi delle scuole superiori in vari istituti della provincia, per iniziare a lanciare il messaggio. Abbiamo fatto anche in alcune situazioni delle simulazioni per quanto riguarda l'utilizzo sociale da parte dei ragazzi dell'alcol e quindi le conseguenze in termini di disinibizione, di comportamenti chiaramente sociali che sono purtroppo il motivo principale per cui i ragazzi utilizzano l'alcol e lo trasferiscono poi in performance su questi social che sono veramente devastanti dal punto di vista della loro influenza sulle giovani generazioni.